Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video! Vi notate qualcosa di diverso? Non so, qualcosa, giusto che sono bionda? Ebbene sì, ve l'ho tenuta un po' nascosto fino all'ultimo su Instagram ma sono diventata bionda e spero di piacervi tantissimo Non è ancora il colore che voglio del tutto perché sopra sono andata con cautela per non avere shock robe strane Oggi siamo qui per parlare di un prodotto che mi è stato inviato e che sono molto contenta di aver sia ricevuto che di farvi vedere Sapete che io vi mostro soltanto i prodotti di cui sono fiera nel senso che sia di tutto quello che compro vi dico sempre il bene e il male e sì, ovviamente le aziende con cui collaboro non ci sarà mai qualcosa che non mi piaccia che vi farò vedere o che vi consiglierò mai questo non lo farò mai perché odio quelli che lo fanno e vederli perciò non lo farò mai a voi Sto parlando di carbon coco che avete sicuramente sentito mille mille volte ma che sono molto contenta di aver ricevuto finalmente Io vedevo sempre quando ho ancora prima di aprire il canale dalle youtuber, dalle influencer e sono contenta di averlo ricevuto Allora, che cosa ho ricevuto? Ho ricevuto l'attivatore questo qui al carbone attivo che si usa prima di andare a dormire per 7-14 giorni adesso sono due settimane e mezzo che io lo utilizzo e devo dire che è efficace questo qui aiuta a togliere le macchie che appunto prendiamo dal cibo prendiamo da tantissime cose dalle bevande io per esempio amo molto il caffè e il tè quindi macchia tantissimo i denti e io avendo lo smalto dentale molto molto sensibile molto sottile soprattutto figuratevi quanto sono sensibile alle macchie e senza sapore e senza odore questa è una cosa molto bella perché io ho visto tantissime volte questa cosina nera che si mettevano sui denti e ho detto chissà che schifo di gusto l'unica cosa è che dovete sciacquarla bene perché se no sentite i granulini e questo qui ve lo devo dire perché se non sciacquate bene il prodotto vi rimane come se avesse sabbietta in bocca quindi sciacquatelo bene mi raccomando è fatto appunto con carbone vegetale come vi stavo dicendo prima al suo interno ha anche il cocco triturato finemente e l'argilla e il limone il mirto di limone però non ha nessun gusto è 100% vegano ed è 100% non pensato sugli animali ed è anche naturale è completamente naturale e questa è una cosa a cui ci tengo tantissimo perché sì ovviamente costerà di più di un dentifricio sbiancante che trovate al supermercato ma quello è tutto chimico questo ci tengo a dirvelo perché sì sbiancano i denti ma rovinano abbastanza e l'altra cosa che mi hanno inviato appunto è il dentifricio che adesso vi mostro ed è il dentifricio nero questo qui è il dentifricio scusate ma qui è finito e praticamente io questo qui non lo uso tutto il giorno nel senso che lo uso a pranzo cioè alla mattina e la sera più che altro perché? perché appunto ho i denti molto sensibili e questo qui aiuta anche a sbiancare perché anche questo ha dentro il carbone vegetale e che appunto è sempre comunque uno sbiancante io anche se mi sbianco i denti con salvia, bicarbonato e limone devo sempre fare attenzione però questo qui potete usarlo durante tutto il giorno se avete dei denti normali e soprattutto questo qui è fantastico perché lo mettete sui denti ed è nero quando iniziate ad usarlo poi diventa bianco e soprattutto vi aiuta a mantenere questi risultati che vi dà appunto il carbone la sera perché se siete come me che bevete caffè e bevete tè ovviamente vi mettete questo la sera il giorno dopo vi bevete tè e caffè e ciao grazie ai risultati mentre questo protegge i denti e salimenta questo qua a gusto e poi mi hanno inviato il loro spazzolino adesso vi lascio la clip la clip la clip dove mi lavo i denti con carbon coco spero di non farvi schifo diciamo se siete sensibili al lavaggio denti passate questo questi questo minuto questi due minuti non so e andate direttamente alla fine con le considerazioni finali allora partiamo immergendo il nostro spazzolino nell'attivatore bagnandolo ovviamente un genio e ve lo faccio vedere da vicino è proprio una polverina nera come vi ho descritto prima vedete vado a immergere e lo passo sui miei denti per tre minuti ecco qua una volta finito vado a risciacquare finiti i tre minuti e passo a lavarli con il dentifricio che anche esso è sempre nero ma come vi ho detto prima una volta che iniziate a spazzolare diventa appunto bianco e voilà aia anche questo per tre minuti sporcando ovunque vedete è bianco una volta finito asciugate vi asciugate e guardate che bianchi uuuu allora che cosa posso dire posso dire che sono soddisfatta di questo prodotto io vabbè ho avuto sempre i denti bianchi però tutti cerchiamo sempre più bianco è una cosa inevitabile soprattutto nelle donne la dentatura bianca è penso un accessorio già in più e soprattutto per le persone come me che sono super solari sorridono sempre è fondamentale quasi appunto avere dei denti sani bianchi belli e appunto sano perché è tutto vegan ed è tutto naturale rispetta la salute della vostra bocca non è appunto come quei prodotti che troviamo al supermercato quindi io ve lo consiglio assolutamente qua sotto vi lascio il link in infobox se volete appunto andarla ad acquistare nulla io spero di avervi tenuto compagnia e scusate se la clip del lavaggio denti non vi è piaciuta vi voglio un bene immenso e noi ci vediamo al prossimo video ciao raggi di sole grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.